buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video stagione 6 settimana 10 di bornite oggi 19 maggio è uscito il terzo numero di batman punto 0 ministerio racometti in collaborazione con panini che vi darà possibilità in ogni numero di riscattare un oggetto decorativo l'oggetto in questione per questo numero è il rampino artigliato di catwoman che potete eventualmente acquistare nello shop di oggi nel set nel bundle di catwoman a 1500 bucks se avete invece riscattato il codice potete riscattare la skin di catwoman a 700 bucks quindi un prezzo molto interessante per poter provare a vincere questo oggetto operativo vi consiglio di attivare la campanella seguire su youtube e vi lascio il link qua sotto per potermi seguire anche su instagram dove pubblico il contest per ricevere i codici che mi danno la possibilità di ricevere questo oggetto gratuitamente quindi mi raccomando seguimi per questo video è tutto ciao